Sicuro che non sia un caccia? Erede della celebre Diablo, la Mursielago è stata prodotta per la prima volta nel 2001. Fedele alla tradizione che vuole i nomi delle Lamborghini legati al mondo della corrida, la Mursielago deve il suo a un toro che nel 1879 sopravvisse a 28 colpi di spada. La sigla LP640 si riferisce alla posizione e alla potenza del suo motore. Longitudinale posteriore e 640 cavalli a 8.000 giri al minuto. Capace di raggiungere i 340 chilometri orari e di passare da 0 a 100 in 3,4 secondi. Supera qualsiasi aspettativa per un'auto di queste dimensioni. Le fasce anteriori e posteriori sono state ridisegnate insieme alle ventole laterali che all'occorrenza si aprono per raffreddare il motore V12. Il nuovo sistema di scappamento è stato modellato in rapporto al diffusore posteriore e la bocchetta sinistra è stata allargata per fare spazio all'impianto di raffreddamento dell'olio.